Recuperati a Pantelleria dai fondali località Mursi e resti di un aereo della Seconda Guerra Mondiale, si tratta di un caccia intercettatore Macchi C-202, folgore, inabbissatosi a 30 metri di profondità. Nel lontano, 1943, l'operazione di recupero è stata realizzata congiuntamente dall'aeronautica militare, distaccamento aeroportunale di Pantelleria, dalla sorrindendenza del mare della regione siciliana e dalla Guardia Costiera, ufficio circondariale di Pantelleria, con l'ausilio del terzo nucleo subacque della Guardia Costiera di Messina. Del velivo in fondo al mare, già nel 2010, era stata recuperata l'elica triplica metallica prodotta dalla Piaggio, che è un'elica a passo variabile in volo a velocità costante del diametro di oltre tre mesi, già musealizzata nella sede dell'Accademia Militare di Pantelleria. Ad aprile di quest'anno è stata realizzata una documentazione videofotografica completa, un rilevo fotogrammetrico, una ricostruzione tridimensionale di dettaglio del relitto ed è stato riportato alla luce il propulsore di un aereo, un motore di 12 cilindri invertito. Il mare, afferma l'assessore regionale beni culturali Francesco Scarpinato, ci restituisce una testimonianza della nostra storia recente grazie all'intervento condotto con grande professionalità dai soggetti che si sono spesi affinché la riemersione delle parti del caccia potesse essere portata a termine. L'aereo recuperato assume una grande importanza sia per ciò che rappresenta nella storia dell'aeronautica militare italiana, sia per la memoria dei traumatici frangenti del conflitto mondiale che interessarono appunto l'isola di Pantelleria.